Il governo Conte ha dato il via alla sterilizzazione dei nuovi aumenti sulle bollette energetiche, una sterilizzazione che sarà parziale, però bisogna anche dire che tutto questo intervento avrà ben poca efficacia se non si decide a intervenire per differenziare ulteriormente le risorse energetiche e ad iniziare ad utilizzare quelle proprie. Cari amici vicini e lontani, bentornati a questa puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elena e se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come il nostro Domenico Lacava interpreta in modo suo graffiante e ironico la situazione. Dicevamo della sterilizzazione delle bollette. Il governo Draghi ha deciso di sterilizzare parzialmente l'aumento del 40% e del 30% sulle bollette del gas e del metano che si stagliava per il quarto trimestre del 2021. Una sterilizzazione che sarà parziale, più forte per i piccoli consumatori, un po' meno sulle imprese e sui consumatori ordinari, però l'aumento ci sarà e soprattutto ci sarà per chi ha una fornitura nella tutela del mercato, mentre per chi è già nel libero mercato e soprattutto ha optato per contratti a prezzo fisso dovrebbe essere tenuto quasi del tutto in denne. Però il problema di fondo è che l'Italia deve incominciare a rendersi conto che tutti i piani di transizione ecologica che si stanno valutando in queste settimane sono una grandissima chimera. Iniziamo dal piano europeo Fit for 55 per cui si vorrebbe entro il 2035 abbattere grandemente l'impronta inquinante europea riducendola dall'8% a zero. Questo naturalmente in un contesto globale dove le emissioni già limitate dell'Unione Europea andrebbero a bilanciare, anzi a scontrarsi con quelle di realtà gigantesche come la Cina e l'India, che sono responsabili rispettivamente del 24 e dell'11% delle emissioni totali, che hanno già dichiarato che prima del 2060 loro non ridurranno il loro apporto inquinante, anzi lo aumenteranno per poter supportare dal loro sviluppo economico. Delle due l'una. È inutile che l'Europa corra per fare ulteriormente la prima della classe, rischiando di danneggiare ulteriormente la propria società, e dall'altra parte non ridurre assolutamente l'impronta globale dell'inquinamento se gli altri non intervengono per limitare grandemente il loro apporto. Da questo punto di vista bisogna intervenire soprattutto anche per differenziale maggiormente il rischio delle forniture energetiche nazionali, perché al giorno d'oggi la produzione di energia elettrica e anche per la climatizzazione viene assicurata dal gas metano, che viene fornito dalla Russia e dai paesi del Medio Oriente e soprattutto, nel caso dell'Italiano, dall'Africa, Libia e Algeria. Ebbene, sul fronte russo la Russia sta utilizzando il gas per spingere sui propri interessi, ovvero sia per cercare di staccare l'Europa dalla dipendenza degli equilibri occidentali, da una parte assicurando sì le forniture minime e contrattualmente stabilite, però dall'altra parte negando tutti gli aumenti di fornitura dovuti ai maggiori costi, ai maggiori consumi derivanti dalla ripresa economica e soprattutto dall'incipiente stagione invernale, dove i consumi energetici sono destinati a crescere normalmente per via della stagione fredda che accendono le caldaie per riscaldamento. La Russia lo fa anche per spingere l'Unione Europea ad accelerare sulla tabella di approvazione del Nord Stream 2 che fino adesso è tenuto in freezer, nel congelatore, per via delle pressioni americane che gli Stati Uniti non vogliono vedere aumentare la dipendenza energetica dell'Europa dal nemico russo. Però parimenti gli Stati Uniti hanno dirottato le loro vendite di gas metano liquido dall'Europa ai mercati asiatici che in questo momento sono quelli che pagano maggiormente questa fonte di energia. Il risultato congiunto è che solo in Europa manca fornitura e da questo si aggrava, questa situazione è aggravata anche dal fatto che i fornitori della sponda africana, Libia e Algeria sono in questo momento praticamente fermi perché stanno facendo delle manutenzioni straordinarie ai loro impianti che erano state bloccate nel periodo della pandemia e soprattutto nella Libia col periodo della guerra civile interna. Questo cosa dovrebbe insegnare? Dovrebbe far capire alla gente e soprattutto a un certo mondo ecologista che non si può predicare bene e razionare male, bisogna guardare in fronte la realtà. L'Italia già di per sé ha un sistema energetico estremamente efficiente vuoi perché non ha risorse proprie e quindi ha dovuto imparare a fare necessità e virtù a utilizzare al meglio quello che era disponibile, spesso e volentieri recuperando e riciclando. In questo contesto bisogna anche avere il coraggio di utilizzare al meglio quelle risorse che sono disponibili e che adesso sono inutilizzate. Pensiamo semplicemente agli ingenti giacimenti di gas che sono stati rinvenuti dall'Eni nel mare Adriatico per cui la Grecia è già pronta a partire, la Croazia è pronta per farlo e l'Italia dice sdegnosamente no, noi non lo utilizziamo perché vogliamo decarbonizzarci. Ragazzi, guardiamo bene la realtà, vogliamo decarbonizzarci? Bene! Però quello che buttano fuori gli altri arriva tranquillamente anche da noi senza nessun sforzo e quindi è inutile fare i primi della classe e dopodiché star lì a piangere sul fatto che ci manca l'energia. Bisogna essere anche un po' meno schizzinosi. E soprattutto, sempre nel campo dell'energia, bisogna avviare maggiormente l'utilizzo di quelli che sono i rifiuti che adesso sono un problema di gestione perché mancano le discariche e non si sa più dove buttarli per realizzare finalmente quegli impianti di termovalorizzazione che da una parte producono energia elettrica e dall'altra parte energia termica per fare le reti di teleriscaldamento per poter riscaldare città, fabbriche e quant'altro. Al nord sono già una realtà, nel centro-sud Italia no e questo crea un problema grossissimo. E poi, bisogna anche cercare di essere attenti perché non possiamo investire 650 miliardi e questi sono i costi che si stanno ipotizzando per affrontare una transizione energetica in Europa. Sono costi che rischiano di pesare grandemente sul sistema manifatturiero e produttivo e anche sociale perché se andiamo a tagliare via posti di lavoro, ridurre la capacità delle fabbriche, ridurre la capacità di produrre per via perché mancano energia e quant'altro, mi pare che sia una scelta abbastanza negativa. E da questo punto di vista è interessante notare che il Consiglio europeo sta pensando di rivedere in profondità il piano proposto dalla Commissione europea del Fit for 55. Anche perché la Commissione europea è un conto, il Consiglio europeo formato dai capi di Stato di paesi europei guarda molto maggiormente quelle che sono le realtà della situazione in cui i vari Stati devono confrontarsi. E al giorno d'oggi il problema grosso è quello di assicurare adeguate forniture di energia per evitare di avere le caldaie spente e le luci altrettanto. Ecco, vi avevo annunciato di come il nostro Domenico La Cava vede questa situazione. Andiamo a vederlo. La Cava interpreta due persone. Uno che domanda a un altro in intento a gonfiare una serie di palloncini. Palloncini che rappresentano la sigla CO2. Uno si rivolge all'altro. Signor Giuseppi, cosa fa? Domanda uno, riferendosi a Conte, leader dei grillini. Sto dando fiato alla pompa. E infatti le sigli si stanno gonfiando con la C dei costi in euro, la O quello del Movimento 5 Stelle e la 2 nel senso del PD che sono i due forze politiche del governo Draghi che maggiormente sostengono la decarbonizzazione in Italia. E sullo sfondo le ciminiere orientali, Decina, India e tutti gli altri paesi che continuano tranquillamente a eruttare fumo nero che aggiunge anche in Europa. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata lo schiacciassassi giunge al termine. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale visto che siete sempre di più. Ci fa piacere, continuate così, dateci forza per poter portare avanti questa voce libera, autonoma, indipendente e fuori dal coro. Intanto, da parte di Stefano Elena, un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!